Ciao a tutti e benvenuti nell'episodio di prova di Encase, nella playlist proviamolo dove tutte le settimane andiamo a scoprire dei nuovi giochi. Encase è un GDR tattico fantascientifico, è ambientato in uno scenario distopico e incentrato sulla scoperta di un misterioso dome in un mondo degli anni 70. Dovremo in questo episodio affrontare la creazione del personaggio, il tutorial e l'introduzione al gioco. Chiaramente se volete vedere la serie proseguire è importante lasciare un like e un commento in modo che io possa accorgermi del vostro interesse. Adesso ci buttiamo in gioco e vediamo che cosa possiamo fare. Eccoci in gioco ragazzi, allora Encase Sci-Fi Post-Apocaliptic RPG. Andiamo a lanciare una nuova partita e utilizzeremo la terza delle difficoltà, si va da storia, viaggio, classica oppure tactics. La classic è la storia tipica, hard mode per quelli che hanno già imparato a giocare degli RPG e utilizziamo questo gioco. Adesso il video ci mostrerà che cosa è successo nel 1971, ve lo posso spiegare io con una piccola sintesi. Il mondo si è svegliato con un dome gigantesco, inaccessibile. Tutte le persone che sono rimaste dentro questo dome, questa gigantesca sfera trasparente ma inespugnabile, non possono uscire e non si sa che cosa stia accadendo lì all'interno. Se non fosse che all'interno ci sono anche degli esseri umani tra cui noi e dobbiamo decidere adesso che personaggio utilizzeremo per giocare la partita. Ci sono diversi wing che sono i clan all'interno del dome, ci sono i bianchi, i neri, gli arancioni e ognuno di questi ha determinati vantaggi o svantaggi. Vedete che noi possiamo scegliere davvero tantissimi personaggi, ho fatto un viaggio molto rapido per semplicemente vedere un po' quante scelte avrei avuto e mi sono accorto che non sono per niente pochi. Ad esempio possiamo leggere Boris Britvin, Orange Wing, Neandertal. Essendo un Neandertal ha più 13 al danno close quarters ma non possiamo indossare pantaloni né giacche. Abbiamo diversi attributi come la forza, la percezione, i guts, in questo caso sarebbero fegato, gli intestini, letteralmente è la costituzione. Poi il carisma, il cervello, l'abilità del sotterfugio, quindi l'agilità, la fortuna e le abilità psichiche. Qui sotto poi si traducono nelle varie abilità come armi leggere, pilotare, armi ad alta tecnologia, influenza e così via. Allora io mi sono già fatto appunto, vi dicevo, un viaggio all'interno di questi personaggi e per lanciare questa partita di prova voglio provare Li Xiaolong che è il Dark Lord. Il Dark Lord praticamente pensa di essere la persona più intelligente sulla terra mentre tutti gli altri personaggi del gruppo sono semplicemente degli stupidi minion. Avremo più 20% danno per tutti i companion del party ma la loro learnability diminuerà di 20 punti. Siamo molto carismatici, molto intelligenti, un po' deafness. Selezioniamo lì. E adesso sono curioso di vedere che cosa succede perché per la prima volta gioco insieme a voi. Ok, Transport Pod. Questi siamo noi all'interno probabilmente di un ascensore. Possiamo parlare? Sì. Il gioco ovviamente è in lingua inglese, supporta tantissime altre lingue, l'italiano non è incluso. Continua. 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 Allora, Monty fa parte del Silver Level Clearance. Asking what is Sonia 5. Allora, questo nerd, praticamente ha studiato un po' la nostra storia ma dice che c'è un buco nero nella nostra storia e non sa bene che cosa sia successo. Noi abbiamo tre risposte, possiamo non rispondere, quattro risposte, non rispondere oppure queste tre scelte. Rispondi che sei, che hai messo, come dire, fatti i conti con il tuo passato da criminale e vuoi mettere la testa a posto. Vogliamo costruire la nostra gang personale. Oppure non potevamo scegliere, dovevamo andare in prigione oppure vivere nel Dome. Allora, ovviamente noi andremo a mentire dicendo che abbiamo fatto i conti con il passato, ma non è vero secondo me. Da bene, continuiamo. Monti. Allora, questo non è un ascensore, forse è semplicemente, c'è veramente una tempesta. Posso parlare anche con le altre persone? Ah, non parla inglese. Usandola il linguaggio dei semi, mimica e talenti artistici possiamo parlare con questa persona. Si sta dando delle informazioni sul Dome, ok, sulla stazione più che sul Dome. Magari guadagniamo qualche punto di esperienza. Ci offre una caramella. Ok, potremmo parlare anche gli altri a questo punto. Magari riusciamo veramente a reclutare qualcuno. Roshani Badgevitz, Tomoko Kimura, Physiologist, ok, è una dottoressa. Mi piace tantissimo la grafica della user interface, mi ricordo, nei primi Fallout. Chiediamo a Kimura se vede la Dark Stain nella superficie esterna del Dome, che non so che cosa voglia dire. Oh, quello è un aereo che si è schiantato sul Dome durante la prima spedizione. È un frammento di ala. E c'è una città bianca bianca bianca. Ok, 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 quindi si può tecnicamente uscire dal Dome, ma gli organismi biologici muoiono se escono dal Dome. Va bene. Questa è un pezzo di informazione importante. C'è una teoria del complotto che dice che in realtà si potrebbe lasciare il Dome tutte le volte che si vuole, ma bisogna testarla questa cosa. Ok, abbiamo parlato con Monty, abbiamo parlato con Elsa, Igor e Tomoko. Rimane Quentin. Chiediamo di come entrato in prigione. Come tutti, già, in una macchina nera. Meraviglioso. Sembra una sorta di mob, una sorta di mafioso. Oh, ci ha dato un coltello. Just in case. No, ci ha dato dei grimaldelli, dei lockpick. Giusto nel caso. Bene. Possiamo informare la guardia, oppure fargli l'occhiolino e bene. Ok, possiamo usare questa porta? Stiamo entrando attraverso questa sorta di ascensore gigantesco, ora capisco. Allora era veramente una specie di ascensore. C'è un piccolo tornado che si sta formando qui sotto intanto. Ok, praticamente potrebbe essere un fenomeno atmosferico non ordinario, quindi un'anomalia. Ok. Stay at the window and watch the wind tilt landing. Adesso siamo arrivati a terra. Ok, siamo arrivati ai gate, siamo all'interno del dome con il nostro personaggio, con lì. Possiamo aprire la porta. Che bello. Quindi, quindi mi state dicendo... Posso usare... Posso usare un grimaldello per aprirmi le manette? No. Inactive Selectron, an electronic key for those within Kronos facilities. Un po' di soldi, uno scanner e una lettera da Kronos. Please accept our sincerest congratulations from this foreword. You are officially part of the Kronos ranks. Our foundation is not merely the wealthiest and fastest growing company in the world. Above all, it is an organization of people, brave soldiers, blah, blah, blah. Thank you for joining us. Ah, eccolo qua. Allora, dobbiamo parlare con Ludovico Nuzzi. Ludovico Nuzzi! Qualcosa mi dice che potrebbe essere un compare. A cheerful man in a white lab coat grabs you by the sleeve. No, nazi! Nuzzi! Oh mio Dio, perché gli inglesi pronunciano le cose così male? Ludovico Nuzzi, analista scientifico e dell'export department. Va bene. Guardiamo con il binocolo. Oh! Wow! Questo tornado è veramente strano. affascinante. Affascinante! Vuoi che ti porti qualche filtro? Che cosa stiamo guardando? Non lo so. Ah, bene. Tu dovresti essere lo scienziato. Che cosa vuol dire analista scientifico del dipartimento degli export? Lavoro nella stazione Concord e categorizzo le reliquie. Deve classificare delle rarità. Cioè, per grado di rarità. Ah, praticamente, una volta che trovano le nomadie le riportano sopra e guadagnano dei soldi. Ok. No, mi scusi, hanno usato un americano di 75esima generazione che ha falsificato il CD dicendo di saper parlare inglese e italiano. Ehm, scusi, you'd better get going or you'll be late for check-in. Your colleagues are already inside and the storm is growing stronger. Va bene. Dovremo entrare perché qui parte. Ci vediamo. Mi chiedo che cosa succederebbe se arrivassi qua. Vabbè, dai. Entriamo. Entriamo nel gate 2. Vediamo che cosa succede qui dentro. È bellissimo, comunque. Mi piacciono molto questi giochi di ruolo. È molto testuale. Ha molta, molta storia, molto olore. L'introduzione, ovviamente, si fa sentire. Però adesso andiamo a parlare. Vediamo che cosa ci dicono. Probabilmente ci sarà una parte tutorial. Esiste la minima? Mamma mia, che meraviglia! Qui siamo nella Concord Station. Abbiamo Margarita Kacchenko, Andri Mihai, Dean Riot, Sidney Maynard, Adolf Schmitz. Adolf Schmitz. Dove sono i miei amici? Ah, Monty James è seduto qui. Posso rubargli qualcosa dalla valigia? Don't touch my things. Oh. Um. Salutations. Hmm. Va bene. Proviamo a registrare nel terminale. Are you for real? That would be incredibly kind of you. Maybe my optimism about this place and the people working here was justified after all. Sì. Al terminale dove, però? Sarebbe bello, però, poter evidenziare... Ah, sì, si può, con l'alt. Possiamo evidenziare le cose. Qui ci sono delle porte. Qui c'è un terminale pubblico. Possiamo utilizzarlo. Oppure parliamo con questa guardia. Ok, parliamo alla persona. Non si capisce che cosa bisogna fare. Allora, un recepzionista alto ti guarda da dietro il desk. Look, the receptionist doesn't bother to hide his disgust at your orange uniform. The administrator slaps himself on the forehead. Oh, I almost forgot the regulation free registration reading. Ray Hatt produces a reel-to-reel tape recorder from beneath the desk. Rewinds the tape to the beginning and presses play. Solem music begins to play. And the administrator's face takes on a serious... Caro impiegato, nel nome della Kronos Foundation, io, l'amministratore Dean Riot, ti do il benvenuto nelle nuove inti nel DOM. Cioè, praticamente, lui rimane lì, preme un mangianastri, invece che dare il benvenuto alle persone, ripete questo discorso. Ok, unendoti alla tua... alla nostra compagnia, hai scelto il percorso della scienza e del progresso. Now that we are done with the greetings, I'll resist you in a previous selection, ok? Ok, eh... Cosa devo fare dopo la registrazione? Va bene. Gli diamo un biglietto in cui abbiamo scritto le nostre informazioni in anticipo. Si è stato assegnato alla stazione Magellano, ok? E un bus speciale ti porterà lì, dopo una serie di briefing. Adesso abbiamo il... Orange Wire, che ci permette probabilmente di entrare nell'istruttore arancioni. Ok, dammi la versione corta. Allora, trova la tua uniforme nello storage, le tue armi nell'armeria e passa il test di abilità psioniche, completa il training alle armi nella training zone e poi impara come usare lo scanner. Evitare le anomalie e catalogare nel modo giusto quello che osservi. Ok. Non abbiamo altre domande. Oh, ti ho mandato una mail nel tuo Sirius, guarda i messaggi, è tutto. Allora, le mail... Le mail le possiamo guardare? Probabilmente... Character? Non proprio. Questo sarà il nostro scanner overview. Non ho idea di dove leggere le mail, magari le possiamo leggere qui. Ah, perfetto. Registra Monty James nel Orange Wing. Che scherzo fantastico. Lui è uno scienziato, l'Orange Wing è per i criminali. Mettiamo Monty adesso nel Orange Wing, così entrerà con tutti i criminali. Ti diverti un sacco nel registrare Monty come un assassino multiplo assegnato a Orange Wing e promettendogli una carriera di lavapiatti e pulizia dei bagni. Ok. Usciamo di qui. Monty sarà davvero contento di questo. Magari possiamo provare a rubarmi anche questa valigia. Allora, activate stealth. Ok. Ma voglio attivare lo stealth. Ok, come faccio ad entrare in stealth senza farmi vedere? Dobbiamo uscire. Allora, questa è una porta che si può aprire, penso. Sono i bagni, giusto? Posso usare l'aspirapolvere? Ok, adesso sono in stealth. E lui non mi vede. Gli passo dietro e provo a prendere la valigia. Pickpocket con gli strumenti. Funziona, funziona ragazzi. Allora, posso rubargli i soldi, posso rubargli un leaflet del dome, posso rubargli anche dei vestiti. E adesso andiamo via di qui. No, c'è beccati. Ah, spera che non ci vedremo più. Vedremo se non ci vedremo più. Intanto l'ho registrato nell'orange. Adesso andiamo a parlare con il tipo delle armature. Vediamo che cosa ci dà. Istruzioni, ok. Ci spiega quali sono tutti i tipi di danno che possiamo avere. E adesso continuiamo, continuiamo, continuiamo. E andiamocene. E adesso abbiamo tutti i nostri equippants, equipjacket, equipboots. E vabbè, abbiamo la roba che abbiamo rubato a Monti, ma giustamente per bullizzarlo. Vediamo se può... E perché non ho un elmetto dei guanti? Ok, possiamo fare del trade, ok. Può venderci dei guanti per cento. Questi sono da ricercatore. Questi sono da ingegnere. Ah, questi sono isolanti. Questi sono da lavoro, tecnologia più cinque. Da soldato, oppure iniziativa più uno. E poi possiamo prendere un elmetto per cinquanta, che resiste all'energia, al caldo, al criogenic. Oppure un nightwatch cap. Questo è un sacco. E anche uno zaino. Allora, con i soldi che siamo riusciti a rubare, ne riusciamo magari a... Ah, devo proprio dar... E poi gli do meno. Vediamo se accetta o no. Allora gli devo dare quello che gli devo dare. Ok, chiudiamo. Weave. Abbiamo preso l'elmo, facciamo un equip. Che bello che si vede tutto sul personaggio, comunque. Ragazzi, allora, io credo che questa struttura avrà bisogno di almeno un'ora di esplorazione, prima che si entri veramente nel gioco. Dovremmo parlare con tutte le persone, probabilmente ci saranno le prime missioni, ma io credo che per adesso possiamo chiudere qui il video. Spero che vi sia piaciuto, spero che apprezzerete. Come sempre, se volete vedere delle serie, io... Cioè, sarà mia cura portarvele, ovviamente dopo aver valutato il numero di commenti e di like sotto i video. Io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ho appuntamento al prossimo episodio. Come sempre, dagli per ora è tutto. Alla prossima. Alla prossima